Signori, siamo i musi dell'acquipolle. Vi dico solo le bambine. Ricordatevi che le bambine non venivano ribaltate dalle ali degli arrabbiati. Bastava semplicemente che si piazzassero con l'ala sotto qui. Vi rendete conto di che cazzo le bambine ci vogliono per, come dire, andare a sfiorare l'ala in un rum contenente 600 kg di esplosivo? Pensateci prima di dire che la V1 era un versaglio facile.